Vorrei con questo video poter trasmettere la mia gioia e il mio entusiasmo perché dei giovani e delle persone possono accedere a questo mondo che è un mondo che ritrae il mondo vero e quindi questa storia della fotografia europea e italiana passa attraverso questo insieme di fotografie di carattere sia sociale che artistico. Quindi se questo mio breve discorso può far sì che delle persone nuove si avvicinano a questo mondo questa è un po' la felicità che io ho e che cerco di trasmettere agli altri nel vedere la fotografia.